Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video ASMR Oggi vi voglio far rilassare col Saloon Barber di Matti il Piondo che vi farà letteralmente godere, letteralmente impazzire Prima di iniziare vi dico una cosa, iscrivetevi al canale YouTube Matti il Piondo Seguitemi su Instagram, io su Instagram ho 100.000 page false Però la mia pagina ufficiale è Matti il Piondo trattino basso, ufficial trattino basso Seguitemi anche su Facebook Matti il Piondo, ho 10.000, mi piace, ho 10.000 follower che si sono iscritti a questa mia pagina dove commento le partite del Napoli Direi subito di iniziare, eccoli quanti Grazie a tutti Adesso mi metto Ecco, ho indossato i guanti Direi di iniziare a tagliare i capelli a questa persona Buongiorno, buongiorno Lei è il mio primo cliente, ho inaugurato questo negozio ieri Ieri sera ho ricevuto tanti auguri e tanti messaggi di affetto Lei come desidera i capelli? Ah, lei desidera i capelli a reggio, quindi la mia specialità, la mia specialità di casa Perché i capelli a reggio sono la specialità della casa, tutti me lo stanno chiedendo di fare E quindi direi di iniziare subito Allora, lei si deve posizionare sulla sedia e io le farò questo taglio coturioso in 5 minuti Finiremo in 5 minuti, innanzitutto iniziamo con una bella pettinatura Iniziamo con una bella pettinatura Vedete? Allora, direi di iniziare a tagliare la parte di sopra Perché la parte più, la parte più grande Poi toglieremo, toglieremo questa parte e le farò una bella rasata Una bella rasata a reggio Allora, prendiamo le super forbici arancioni Allora, direi subito di iniziare Allora, guardiamo la scanfa Allora, Grazie a tutti. Grazie. Ok, adesso un altro po' qua. Ok, ecco. Ecco, fammi tagliare quest'ultima parte. Ok. Ok, andiamo a tagliare i primi capelli. Lei che ne pensa di questo taglio? È perfetto, grazie. Io la stimo, lei è un grande. Allora, adesso facciamo un po' di pittinatura ai capelli del riccio. E poi. Ok. 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 Allora, direi di iniziare a pittinare questi capelli. Ok. Ok. E' proprio spettacolare il suono di questo pittine. Ecco qua. Ecco qua. Ecco. Ecco. Scusami, scusate, mi sono dimenticato di tagliare questa parte. Ok. Ecco. mi devo fare un'altra un'antima la vita in un'altra